La prima conferenza provinciale a battere la dispersione si può organizzata dalla rete di Foggia e dal capofila del progetto il CIDI di Milano si è svolta ieri presso l'ente provincia. Oggetto dell'evento è stata la presentazione dei risultati ottenuti nella rete di Foggia durante i cinque anni di sperimentazione del progetto nazionale. La conferenza costituisce un'importante occasione che ha permesso di presentare i modelli, le esperienze e le strategie condotte nelle quattro istituzioni scolastiche in collaborazione con un ente del terzo settore presenti nella rete di Foggia. Il progetto ha l'obiettivo strategico di contrastare la dispersione scolastica nel passaggio delicato dalla preadolescenza all'adolescenza ha coinvolto 45 istituzioni scolastiche, 25 cooperative, numerose associazioni e università a livello nazionale. La rete del territorio provinciale ha interessato la partecipazione di quattro istituti, l'Istituto Parisi De Santis di Foggia, l'Istituto Palmieri di San Giovanni Bosco di San Severo, l'Istituto Pavoncelli di Cerignola e l'Enaudi di Foggia. L'incontro è stato un momento importante per dimostrare che la scuola in alleanza con il territorio può concretamente ridurre in modo significativo la dispersione scolastica. I risultati che sono stati presentati costituiscono un significativo riferimento nella prospettiva delle azioni di contrasto alla dispersione previste dal PNRR Scuola 4.0, per le quali sono stati stanziati ingenti investimenti finanziari che, se non adeguatamente indirizzati, si rischia di sprecare una grande occasione di rinnovamento della scuola del Paese.